Mostre, concerti, commemorazioni pubbliche, presentazioni e incontri torna anche quest'anno il programma per la festa di liberazione dell'Italia dal nazifascismo con diverse novità. La più importante è il ritorno del concerto per il 25 aprile appuntamento che non si ripeteva più in città da 10 anni. L'ultimo artista ad esibirsi in quell'occasione fu infatti Edoardo Bennato in Cortile degli Svizzeri nel 2008. Quest'anno il concerto, il cui protagonista ancora top secret, si svolgerà in piazza San Francesco Ma le celebrazioni della liberazione abbracceranno tutto il mese di aprile. Si comincia il 4 con l'inaugurazione a Palazzo Ducale della mostra Fratelli Rosselli, storia di giustizia e libertà. Salvare Lucca è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'AMPI per il 24 aprile in memoria della pattuglia partigiana che salvò Lucca dai bombardamenti. Saranno proprio loro ad essere ricordati al Ponte dei Frati con una cerimonia pubblica che vedrà anche la presenza dei familiari e dei protagonisti. Il 25 aprile, oltre alla cerimonia istituzionale in Cortile degli Svizzeri, alle 18.30 in piazza San Francesco si terrà dunque il concerto della liberazione. Per tutta la giornata saranno aperti i musei del risorgimento, Paolo Cresci per la storia dell'immigrazione italiana e il teatro del profumo e sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita di Palazzo Ducale. Si prosegue poi il 29 aprile con lo spettacolo ricordo del professore partigiano Carlo Delbianco, affidato al monologo teatrale di Marco Brinzi. A maggio poi è previsto un ciclo di incontri sull'avvento del fascismo a Lucca dal titolo Conoscere e interpretare i fascismi di ieri.